Per cui che cosa hanno creato le low cost in piccoli aeroporti? Hanno creato un sistema aeroportuale molto frammentato e disorganico, questo specialmente in Italia, con il problema che i vettori low cost giocano sostanzialmente su prezzo e sui siti. La parola sussidi comporta una marea di problematiche, incentivi, finanziamenti, li chiamiamo sussidi. Quindi alla fine del discorso le compagni a low cost per il servizio giusto e buono che svolge, dall'altra parte però crea una forte distorsione del mercato. Allora, gli aeroporti minori purtroppo, anche se finanziati dal pubblico, e ora vi spiego in quale motivo, in quale modo, il pubblico andrà a coprire, che cosa? I deficit di finanziamento e di esercizi. Con che cosa? Con gli aiuti al funzionamento. Ora entriamo nel discorso vivo, nel pieno del discorso, quindi nel cuore del problema, perché in Europa, sostanzialmente dal 1994 al 2005, al 2014, ogni dieci anni la Commissione ha rivisto le regole che seguono porti e aeroporti. per cui nel 2014, l'ultima legge del 2014, che è uscita non so la volta, la C-99-03, che potrete andare a trovare benissimo su internet, per cui rendervene conto, stabilisce quali sono gli aiuti che gli aeroporti fino a 3 milioni di passeggeri possono ricevere. e sono gli aiuti compatibili, aiuti di Stato compatibili, anche riscontrati poi sul trattato della funzionalità europea, che tutti sappiamo che è il trattato di Lisbona del 2007, che poi è stato reso compatibile con le leggi italiane, quindi ha accettato lo Stato italiano con l'intervento del Presidente della Repubblica nel giugno del 2008, quindi tuttora vicenda. La Commissione ha cercato di dare con questa legge un approccio equilibrato per la crescita del traffico aereo proprio nei piccoli aeroporti e in altre parole ha cercato di regolare il mercato. Quindi gli aiuti che si possono dare se sono aiuti ammissibili e quindi compatibili, in questa legge vengono ribaditi. Al fine proprio di garantire l'equilibrio degli investimenti pubblici e privati fatti negli aeroporti. Ma si osserva però che spesso i voriglie, sapendo un po' in Italia, come di solito si dice, non voglio essere un po' ripetitivo nei discorsi, però in Italia fatta la legge, trovata l'inganno, è una cosa vecchia che ribadiva anche i nostri padri. per cui tutto è rapportato al problema politico-sociale, ma tutti i finanziamenti dati proprio esclusivamente a livello politico sono di corto respiro perché come cambia la vista politica del discorso di maggioranza o di minoranza possono cambiare gli aiuti. Per cui dobbiamo ora definire i termini di aiuti di Stato. Qui c'è poco da parlare. È una semplice riflessione che ha fatto il legislatore europeo tramite la Commissione. Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che attribuendo un vantaggio economico selettivo falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Cioè quant'è che diventa aiuto di Stato? Un finanziamento un incentivo o qualsiasi fonte di aiuto verso qualsiasi azienda. Quindi ricordate che la società di gestione aeroportuale in azienda commerciale definito proprio dalla Corte di Giustizia europea a livello europeo. Quindi automaticamente dando gli aiuti alle società commerciali se non sono aiuti compatibili e ammissibili diventano aiuti di Stato e quindi falsano e non rifalsare la concorrenza. Quindi alla fine avremo aiuti in Stato compatibili e quindi non compatibili. Vai avanti perché se no non finiamo. Mentre nelle leggi del 2005 la Commissione ribadì che laddove una società un'istituzione pubblica mettesse in disposizione dei fondi riguardo dei piccoli aeroporti degli aeroporti regionali quei fondi dovevano essere concessi come con il principio degli investitori in economia di mercato però non dava nel 2005 l'indicazione come andare a redigere un diciamo un nuovo test per vedere se erano o non erano aiuti compatibili. Con il 2014 invece è stabilito un test che si chiama test MEO o test dell'operatore in economia di mercato cioè in definitiva che dice la commissione laddove l'istituzione ha fra i propri fondi a disposizione incentivi va bene ora entriamo proprio nell'argomento incentivi da poter concedere o direttamente o tramite la socializzazione aeroportuale ad una compagnia aerea va bene se questi incentivi vengono dati vengono dati con il principio dell'operatore di mercato che ne ritraggia poi alla fine investendo inutile e l'istituzione pubblica li dà in questo modo allora non si può parlare di l'operatore di Stato perché stiamo parlando di un di un l'operazione normale di mercato è chiaro il concetto no? quindi questo si chiama test MEO ora entriamo nel discorso della legge la legge in Europa la legge del 2014 in Europa ha tre fondi di finanziamento aiuti agli investimenti aiuti al funzionamento e gli aiuti all'avviamento in overrote questo è sempre a aeroporti fino a 3 milioni di passeggeri in questo schema come vedete abbiamo rapportato un messer di Giorgio abruzzi perché l'area del petrolio gli aiuti all'investimento e al funzionamento dell'istituzione a chi ha la società di gestione aeroportuale mentre invece la regione può dare o direttamente gli incentivi alle nuove lotte ad accompagnare la sempre effettuando il mio test o sempre tramite la società di gestione facilissimo anche come dunque gli aiuti agli investimenti gli aiuti agli investimenti è facile da dire no? più fra l'altro con quello che mi ha fatto degli insieme sono quegli aiuti agli investimenti e era una cosa tra me e la Daniele dunque gli aiuti agli investimenti non sono altri che quegli aiuti concessi ai piccoli aeroporti per le infrastrutture la parola stessa si dice investimenti alle infrastrutture e quindi è di facile colgo quindi vedremo che poi la Srae più l'aeroporto è piccolo e più ha bisogno dell'aiuto agli investimenti invece e quindi questo però ecco fino ad oggi fino ad oggi fino alla prossima cosa la prossima legge che stanno cercando di cambiare gli aiuti all'investimento non ho finito di notifica ma probabilmente con la prossima cosa non ci sarà sarà la variazione che sarà più la rubina sì sì acceleriamo mi dice quindi vabbè aiuto al funzionamento sono non altro che il deficit di esercizio che non è altro che la perdita di esercizio fatta da costi meno ricavi e quindi questi esercizi lo troverete nella legge vai avanti vai avanti vai avanti quindi più piccolo l'aeroporto e più hanno bisogno di aiuti al funzionamento una cosa particolare c'erano aeroporti sotto i 700.000 passeggeri come per esempio quella da Brusca che hanno norme che riguardano non più di 10 anni di spazio utile ma 5 anni per poter messersi a posto ma è gli aiuti al funzionamento hanno obbligo di un regime quadro nazionale che l'Italia non ha mai fatto tra l'altro e molti aeroporti non l'hanno fatto neanche sotto il profilo quindi la cosa importante è che aiuta le compagnie per il lancio di Noverotte e qui entriamo in un discorso senza andare avanti vai proprio al ecco in un discorso che riguarda che riguarda le regge dunque il problema sostanziale è questo signore il problema è che l'Europa nella legge 2014 per aiutare le compagnie aeree intende esclusivamente aiuti compatibili come aiuti di Stato che riguardano esclusivamente il lancio quindi l'avviamento di nuove rotte e questo è facilmente compatibile perché l'aeroporto grande non ha problemi a lanciare le nuove rotte perché c'è traffico a volontà e non ha problemi è meno appetibile in aeroporto piccolo dove non si sa se quella rotta andrà bene o meno per cui che cosa fa l'istituzione dice signori è giustissimo diamo un aiuto anche fino a tre anni a una compagnia aerea per la commercializzazione della nuova rotta che non vada in giro sui costi di esercizio della compagnia che si deve pagare da solo ma in ancio la nuova rotta è giusto che venga commercializzata e questo è quello di cui parla la commissione e basta la legge andiamo un pochino indietro nel 2013 l'Italia ha fatto un decreto legge nel 145 che poi è stato trasformato in legge numero 9 il 21 febbraio nel 2014 che proprio riguarda i piccoli aeroporti riguarda le concessioni di aiuto alle compagnie aeree per quello che riguarda le rotte però la specifica europea parla di nuove rotte mentre invece il decreto legge parla in una maniera molto equivocata e dice per l'avviamento e sviluppo di rotte nel proprio bacino di utenza è molto dubbia la cosa che vuol dire però sostanzialmente è stata fatta nel 2013 nel 2014 uscita la legge europea ma la legge europea che dice sull'articolo 169 che dice gli stati membri devono provvedere a modificare se necessario in proprio le regine esistenti a fine di allineare il presente orientamento entro 12 mesi dal 4 apri del 2014 che vuol dire che quella legge fatta a febbraio dovrà essere poi allineata entro 12 mesi con quella europea ciò che non è avvenuto il 2 ottobre del 2014 e qui io ora vi sto dando delle informazioni di carattere normativo e qua diventa un pochino ostico il discorso ma è quello su cui mi dovete seguire un pochino finora abbiamo parlato dei principi che è successo che nel 4 ottobre del 2014 il decreto legge prevedeva che il MIT facesse un decreto ministeriale una linea guida una linea guida per quella per quella legge e infatti fece il decreto legge la 397 per l'avviamente sviluppo di nuove volte è stato poi portato avanti per due anni questo decreto alcuni aeroporti hanno si sono lineati a quel decreto che non era proprio diciamo allineato con quello europeo ma aveva una parvenza di legalità poi però c'è stato un intervento un intervento che è avvenuto proprio nella la fine del 2015 da parte di una compagnia da non tutta conosciuta molti di noi sono arrivati qua proprio con la low cost con Ryanair e Ryanair per un motivo molto molto logico non ha fatto altro che oserei di quasi ricattare lo Stato italiano perché 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 nella legge di stabilità del 2015 erano previste un aumento degli addizionali degli addizionali che non mi sta spiegare che cosa sono gli addizionali aeroportuali che poi vanno all'Inps per 2,50 tramite questa scusa Ryanair ha detto apertamente che avrebbe lasciato tre aeroporti sostanzialmente che poi non sottrema su di più Arigheo Pescara e Crotone perché Crotone l'ha già fallito nel 2014 proprio queste problematiche se non avessero tolto queste 2 euro ma sostanzialmente non erano le 2 euro che importavano le tasse rapportuali sono una partita di giro come le vede non lo hanno a decidere sulla compagnia aerea il passeggero il figlietto paga comprensivo delle tasse le tasse aeroportuali entro 90 giorni devono essere rimesse dalle compagnie e parlo proprio delle addizionali devono essere rimesse dalle compagnie alla sociale di gestione che diventa poi sostituto l'imposta nel momento in cui riceve queste tasse e che poi dovrà rimettere l'AIMS alle RAN quindi da partire di giro la compagnia aerea ma tra questo discorso l'ha portata ma un motivo c'era perché Ryanair poi si ha raddotto città il motivo sostanziale è che stavano scavendo i contratti che Ryanair deteniva da anni anche in modo non legale da anni con tantissimi aeroporti di Balguero di Potrar di Pescara di Potremiso che praticamente costringe la Ryanair a non prendere più sovvenzione statale di di linee già da 15 anni finanziate cosa una nuova rotta una linea come quella finanziata c'è molti di noi sono venuti da Pescara con un volo da Pescara a Charleroi l'aereo era pieno giusto? mi dite per quale motivo la regione Abruzzo deve continuare a finanziare questo volo con 10 euro a passeggeri per dove viene questi soldi? siccome non è a disposizione di va a prendere da altri capitoli di bilancio che incidono negativamente su sanità ambiente per via dice una cosa vergognosa quindi sostanzialmente questo è il discorso che cosa ha fatto lo Stato italiano è quello che voleva Ryanair che è uscito sotto braccio del ministro del Rio di Renzi e anche del nostro governatore che cosa ha fatto? ha chiesto la modifica delle linee guida le linee guida che sono uscite ad agosto sono completamente fuori dalle linee europee perché non fanno vedere né trasparenza e quindi fuori da qualsiasi tipo di concorrenza allora questo è un discorso ci sta bene? no non ci sta bene il mio test già l'abbiamo detto prima andiamo avanti andiamo su queste sono le problematiche degli aeroporti degli aeroporti piccoli che sono soggetti a tutte le ai ricatti delle aeroporti e questo non va bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti